Un cordiale e buon pomeriggio da Emilio Migliaccio, prova di qualifica riservata ai tre anni con due concorrenti al via. A chiusura delle ali Tiziano Lewis si impone al comando nei confronti di Tenerife Rabba. Il leader, un maschio da Varenne in pronta Lewis, Giorgio D'Alessandro senior, allenatore guidatore per conto della futura Orsis. 14.2 il lancio, quarto iniziale è piuttosto veloce, completato in 29.3. Circa cinque lunghezze segue Tenerife Rabba, una femmina da Vidiano Prinze e Galibia Rabba. Giuseppe Citarella ne è l'allenatore, Gietano di Nardo, i colori dei fratelli Setola. 45 scarsi, 600. Gradua dopo lo strappo iniziale. Tiziano Lewis mantiene largo margine su Tenerife Rabba. Andiamo a vedere il passaggio agli 800 metri. 1.1, 16 di ultima frazione. Fa corsa per proprio conto il Varenne di Giorgio d'Alessandro senior che completa il chilometro in 1.16.2. Ancora 15 di frazione per il Puledro nato sui prati dell'allevamento Luise che arriva ai tre quarti di miglio, fa una leggera difesa caratteriale. 1.31.5 il passaggio, 15.2 di frazione. Aveva bisogno di un callo a fianco a questo punto e di fatti rallenta. Rallenta la sua azione. Giorgio d'Alessandro deve richiederlo. Curva piuttosto lenta in 16.5 e anche la retta d'arrivo. Arriva male. completa comunque sicuramente la prova di qualifica. Sul mio cronometro 2.5 e mezzo quindi la media dovrebbe aggirarsi intorno all'1.18.7 per Tiziano Lewis mentre Tenerife Rabba è rimasta staccata e non ha superato sicuramente la prova.